Pistoiese e Padova di nuovo vittoriosi e i Toscani ancora con un rigore di Manfrin mentre Monza e Triestina hanno compiuto un passo molto piccolo, i Brianzoli in casa fermando comunque l'Atalanta gli alla Bardati invece ad Empoli sul campo quindi di un'avversaria diretta ma poiché alle spalle il Catanzaro, intanto state vedendo, anzi state non vedendo le immagini di Cremonese Cagliari diceva che il Catanzaro senza per questo fare paura appare comunque in ripresa